Ventiquattresima Domenica del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo, Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola, Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora. Quella che s'era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete, e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa, e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice, Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano, e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse, Quanti salariati di mio padre! Hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre, e gli dirò, Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò, e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, Presto, portate qui il vesito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali e i piedi. Prendete il vitello grasso. Ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre, allora, uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre, Ecco, io ti servo da tanti anni, e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Li rispose il padre, Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa, e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto, ed è tornato in vita. Era perduto, ed è stato ritrovato. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano Gesù, vedendolo in compagnia di pubblicani e peccatori, e dicono con sdegno, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questa frase si rivela in realtà come un annuncio meraviglioso. Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. È quello che accade a noi, in ogni messa, in ogni chiesa. Gesù è contento di accoglierci alla sua mensa, dove offre se stesso per noi. È la frase che potremmo scrivere sulle porte delle nostre chiese. Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa. E il Signore, rispondendo a quelli che lo criticavano, racconta tre parabole, tre parabole stupende, che mostrano la sua predilezione per coloro che si sentono lontani da Lui. Oggi sarebbe bello che ognuno di voi prendesse il Vangelo. Il Vangelo di Luca, capitolo 15. Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta? Chi di voi? Una persona di buonsenso no. Fa due calcoli e ne sacrifica una per mantenere le novantanove. Dio, invece, non si rassegna. A Lui sta a cuore proprio tu che ancora non conosci la bellezza del suo amore. Tu, che non hai ancora accolto Gesù al centro della tua vita. Tu, che non riesci a superare il tuo peccato. Tu, che forse per le cose brutte che sono accadute nella tua vita, non credi nell'amore. Nella seconda parabola, tu sei quella piccola moneta che il Signore non si rassegna a perdere e cerca senza sosta. Vuole dirti che sei preziosa ai Suoi occhi, che sei unico. Nessuno ti può sostituire nel cuore di Dio. Tu hai un posto, sei tu, e nessuno può sostituirti. E anch'io, nessuno può sostituirmi nel cuore di Dio. E nella terza parabola, Dio è padre che attende il ritorno del figlio prodigo. Dio sempre ci aspetta, non si stanca, non si perde d'animo, perché siamo noi, ciascuno di noi quel figlio riabbracciato, quella moneta ritrovata, quella pecora accarezzata e rimessa in spalla. Egli attende ogni giorno che ci accorgiamo del suo amore. E tu dici, ma io ne ho combinate tante, ne ho combinate troppe. Non avere paura. Dio ti ama, ti ama come sei, e sa che solo il suo amore può cambiare la tua vita. Ma questo amore infinito di Dio per noi peccatori, che è il cuore del Vangelo, può essere rifiutato, è quello che fa il figlio maggiore della parabola. Egli non capisce l'amore in quel momento, e ha in mente più un padrone che un padre. E' un rischio, anche per noi, credere in un Dio più rigoroso che misericordioso, un Dio che sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così. Dio salva con l'amore, non con la forza, proponendosi, non imponendosi. Ma il figlio maggiore, che non accetta la misericordia del padre, si chiude, compie uno sbaglio peggiore, si presume giusto, si presume tradito, e giudica tutto in base al suo pensiero di giustizia. Così si arrabbia col fratello, e rimprovera il padre. Hai ammazzato il vetello grasso, ora che è tornato questo tuo figlio. Questo tuo figlio, non lo chiama mio fratello, ma tuo figlio, si sente figlio unico. Anche noi sbagliamo quando ci crediamo giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri. Non crediamoci buoni, perché, da soli, senza l'aiuto di Dio, che è buono, non sappiamo vincere il male. Oggi, non dimenticatevi, prendete il Vangelo e leggete le tre parabole di Luca, capitolo 15. Vi farà bene. Sarà salute per voi. Come si fa a sconfiggere il male? Accogliendo il perdono di Dio e il perdono dei fratelli. Succede ogni volta che andiamo a confessarci. Lì riceviamo l'amore del padre che vince il nostro peccato. Non c'è più. Dio lo dimentica. Dio, quando perdona, perde la memoria. Dimentica i nostri peccati. Dimentica. E' tanto buono Dio con noi. Non come noi, che dopo aver detto non fa nulla, alla prima occasione ci ricordiamo con gli interessi dei torti subiti. No, Dio cancella il male, ci fa nuovi dentro e così fa rinascere in noi la gioia, non la tristezza, non l'oscurità del cuore, non il sospetto, ma la gioia. Fratelli e sorelle, coraggio, con Dio nessun peccato all'ultima parola. La Madonna, che scioglie i nodi della vita, ci liberi dalla pretesa di crederci giusti, e ci faccia sentire il bisogno di andare dal Signore, che ci aspetta sempre per abbracciarci, per perdonarci.